Sì col 16 ma è un cavallo svelto, è andato subito terzo in partenza. Terza corsa, premio esotico Brad, secondo impegno della giornata per i tre anni, stavolta otto al via dopo il tiro del numero 9, Cash Stecca, prima fila per Chloe Dorial Mail, Carlos Opie, Cicles Go, Cyclone Deepa, Chester, Coco Chanel e Chuck Juice SM. Da solo in seconda fila col numero 8, Cagliostro, di Galoppo prima del via, Cyclone Deepa, imitato da Chuck Juice SM, e poi anche da Cicles Go, emergono in lotta Carlos Opie e Cester, davanti a Chloe Dorial Mail che serra sotto la corda, poi si sistema quarta Coco Chanel davanti a Cagliostro, con l'errore in curva per Chester. E allora Carlos Opie libero di comandare, nei confronti di Chloe Dorial Mail, Cagliostro, che ha superato Coco Chanel, vittima di una breve incertezza, e in coda c'è Chester rimesso. Con Carlos Opie che ora, dopo l'allungo iniziale, cerca di moderare il ritmo e giunge al paletto dei 600 iniziali, comunque in un sollecito 44,5. Si sposta per primo dalla corda Cagliostro, prevenendo le mosse di Coco Chanel. Sembra un po' in difficoltà a Chloe Dorial Mail. Carlos Opie in vantaggio, inseguito da Cagliostro, che va deciso. Poi Coco Chanel che sopravanza a Chloe Dorial Mail, Cester che cerca di riprendere contatto. Cagliostro che può parcheggiare in scia a Carlos Opie, dopo un primo giro da 1.15.2. Continua a fare ritmo notevole, Peppe Lombardo in salchia d'allievo di Lucio Colletti, ma Cagliostro si riaffaccia all'esterno. Coco Chanel si sistema terza, ma affronta con cautela la curva. Il paletto dei 1.200 in 1.29.5 con Carlos Opie in seguito da Cagliostro, poi Coco Chanel, poi Chloe Dorial Mail e Cester. La retta d'arrivo con Carlos Opie in vantaggio. Cagliostro che cerca di rinnovare gli attacchi, Coco Chanel ancora alla ricerca dell'azione più redditizia. Poi Cester con Carlos Opie che ora si svincola chiaramente da Cagliostro. Coco Chanel che cerca di andare in migliore carburazione, cosa che fa in questo istante, ma Carlo Soppie è imprendibile e conclude da netto e meritevole vincitore su Cagliostro, che a sua volta precede Coco Chanel. 1.59.2 sul mio cronometro. 1.14.5 per il sicurissimo percorso di testa di Carlos Opie, figlio di McGrace SM e come il papà allenato da Lucio Colletti, Peppe Lombardo Junior in salchi. I colori qui della signora Doroterita Cortina per il coast to coast di Carlos Opie, che sul palo precede Cagliostro e Coco Chanel. E' vero! Bello! Grazie a tutti